Musica Bella a tutti ragazzi sono Zanzo bentornati sul mio canale Oggi finalmente ragazzi siamo tornati nella serie principale di Minecraft Nell'episodio speciale episodio numero 90 E come da richiesta di molti ma scoperto nell'episodio 89 da pochi Perché in pochi pensavano che io l'avrei portato Sono in compagnia di Free Gaming Ciao a tutti ragazzi Grazie Zanzo per avermi invitato Ciao Innanzitutto Free Gaming è venuto nel mio mondo nella mia serie Quindi voglio 3000 like Pronti via Esageriamo 4000 4000 like ragazzi E naturalmente siccome Free è venuto nel mio mondo Gli ho detto cosa vuoi fare di bello all'interno del mio mondo nell'episodio 90 Lui mi ha consigliato e abbiamo scelto insieme di fare una cosa leggera Quindi costruire una farm d'oro Una cosa che durerà poco tra l'altro Esatto e soprattutto che farm d'oro? Una di quelle farm d'oro che ti producono una quantità di roba incredibile Esatto E la costruiremo dove? Sul tetto del nether giusto? Esatto ovviamente Il tetto del nether Ci metteremo tipo 3-4 ore Io te lo dico preparati Non è un problema Non è un problema Allora come ogni episodio speciale Dobbiamo naturalmente inserire il nostro caro Free Gaming All'interno del museo Del monumento Del tempio Chiamato come volete Degli YouTubers Allora mettiamo subito qua il nostro bel cartellino Facciamo Episodio 90 Episodio 90 Sotto il nome FR3E Gaming Fr3 Ok gaming XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXQ 談 Eccolo bellissimo Attenzione E tra l'altro adesso mi viene in mente Che qualcuno mi aveva detto che avevo sbagliato a scrivere적인 Blaze Ah perché forse ha la B maiuscola Blade Esatto Eh va bene lo sistemerò poi Ok quindi adesso vado velocemente a recuperare il come si chiama il comando di minecraft per givarci la testa del nostro amico free gaming faccio ctrl c torno in minecraft ctrl v school owner lui tu ti chiami free gaming anche qua adesso ci ha dato la testa quella sbagliata sicuramente e no e abbiamo inserito anche il nostro amico free gaming perfetto adesso visto che la farm l'hai studiata te si io ho fatto uno schemino della farm esatto dovresti dirmi che materiali ci servono intanto io trasferisco il tutto là e per esempio una decina partiamo con una decina poi probabilmente serviranno anche di più ok di materiali da costruzione in generale poi un po' di legno perchè dobbiamo fare delle scale e poi serviranno magari dovremmo fare anche una barriera per i pigmen cioè impedire che i pigmen vadano in determinate aree ok quindi non lo so o fence oppure magari utilizziamo due blocchi proprio per fare una muraglia però te lo consiglio un po' o cobblestone wall ah cobblestone wall ce ne sono pieno lì dentro minceca esatto qua ne ho tantissimi ne avevo fatti tutti lo scorso episodio allora qua ne ho 64 56 si adesso quando torniamo verso casa ti crafto un paio di shulker box ah ok perfetto e giù torniamo verso casa naturalmente andiamo nel nostro magazzino ahimè mi dispiacerà un po' abbandonarlo ma devo dire che è ancora temporaneo al momento perché ci abbiamo in mente un progetto della madonna ragazzi di quel magazzino e vi dico che è tanta tanta roba mamma mia se viene voglio tipo 100.000 like in quel video lì perché ragazzi una roba del genere non penso che su youtube italia si sia vista così grossa il video deve arrivare in tendenza mondiale madonna c'è proprio più di pai levati che passo io bisogna sistemarlo un po' questa farm per forza perché non è efficientissima c'è quella lava lì che sta fuori quel tot in più che mi brucia alcuni drop quindi non mi piace devo sistemarla devo sistemarla da sistemare da sistemare per uscire sopra il nether quindi mi dicevi che ci servono il minecart allora ti servirà una rotaia alimentata minecart? quanti? un minecart una sola una rotaia normale io ho la farm quella automatica di rotaie cioè la farm è quella che sfrutta il bug delle rotaie quindi un bug di duplicazione come no non ci serve nient'altro per ora e poi ecco per ritornare questo è un problema o creiamo un portale del nether che ci riporta nell'overworld sopra la bedrock tanto si collega al portale che già c'è oppure oppure potremmo utilizzare il bug quello con l'uovo di drago per distruggere la bedrock io ho un portale da una parte e un portale nella parte esattamente opposta che uno mi porta al portale del land e uno invece mi porta in una zona tipo mega sperduta in mezzo all'oceano possiamo costruirlo o a destra o a sinistra quindi nelle altre due direzioni che ci mancano se tipo i portali sono nord e sud costruiamo o est o ovest, dai ci sta, ci sta quindi ricapitolando minecart, powerhead rail rail normali, mai detto una leva eccola qua, ne ho 28 minchia, io direi che ci siamo non ci serve, altro stanno a prenderti l'ossidiana, perfetto quindi facciamo una cosa vabbè ma sti cazzi, scusa va, in me ne aggiunti fa spacco, e non ho robe del nether ma poi le metterò, quindi per il momento però non ti bastano le scalapioli, ne dovremmo craftare alto, ah ti ho provato, ho prodotto di quel legno si anche io ho un po' di legno ok, quindi facciamo tac, faccio una crafting, c'è là nel nether o la faccio? no, mi sa che l'ho tolta forse era qua fuori, a vedere no, l'ho tolta, perfetto, bene, fatta la crafting ok, quindi adesso noi dobbiamo andare verso l'alto, e per andare verso l'alto io però direi di fare una cosa di questo tipo, guarda vai, usiamo la cobblestone che almeno i ghast non possono romperla io faccio il pillar e tu mi segui con le scalapioli, sperando sperando che non nascano ghast aspetta un attimo, devo fare una cosa si, incrociamo le dita, non nascano ghast ok, questo l'ho dovuto romperlo tac, ok, io vado eh vai, vai, ti raggiungo, stavo facendo altre due scalapioli per sicurezza dico, è bello lungo il nether verso l'alto, pensavo di essere già abbastanza in alto invece no, sono 128 blocchi, credo oh, abbiamo trovato la bedrock allora, dobbiamo trovare un punto un po' più altino, perché 124, dove sto io, è basso questo è 124, 125, 126 no, perché l'ultimo livello di bedrock è 128 quindi dovremmo trovarne uno a 127 questo? guarda vediamo un po', arrivo più alto è meglio è se no ci possiamo provare ad accontentare allora col blocco lì in alto allora, vediamo un po', siamo a vedete, 123, questo è 124 questo è 125, esatto sì, guarda ci potremmo anche accontentare alla fine possiamo provarci vediamo se riusciamo al massimo vado io che se muoio non è un problema allora scalapioli sì poi ci dovremmo mettere qua un un blocco dove? dove stai tu? dove sono io? aspetta, mi sposto esatto poi ci serve il il minecart con la powerhead rail qua e la rail e la no, niente basta una powerhead rail scusa un secondo, aspetta sì ok mi sono sbagato quindi la powerhead rail sopra il blocco? sopra il blocco così ci buttiamo sopra il minecart tac attiviamo la powerhead rail quindi leva io sono sbagatissimo ok, basta, perfetto, ci siamo sì, tu devi andare su e giù sì, esatto io non riesco a muovermi sono sbagato ah, ok faccio il sueggio e il saltello poi? ecco, poi adesso dovresti ti spiego come fare magari prova a farlo io prima va bene, allora aspetta che mi levo premo shift per uscire dal minecraft sì sì, dal minecart, scusa ok e sulla leva tento di salire con W la leva ci farà salire perché ci bugheremo entreremo in mezzo nel mezzo praticamente dei blocchi della bedrock ok se soffoco prova a regolare tutta la roba ok non assicuro il risultato non mi fa entrare? perché non mi fa entrare il minecart? eccolo qua ok sì, ci siamo perfetto si sopra? entra nel minecart premi shift W addosso alla scala però il minecart si è spostato adesso ah ok allora rimetti la leva sì, si dovrebbe spostare quindi devo fare dentro nel minecart e poi shift e W cioè avanti per nel minecart ok eccolo here we are ok quindi noi dobbiamo andare o a nord o a sud qua diciamo che andremo a costruire il nostro bel portale io però prima di rientrare qua dentro vedendo se funziona voglio vedere dove sono finito sono curioso mese 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 sì è la giungla è la giungla ce l'avevi la giungla? sì ah ok allora niente però non vorrei che sia un'altra giungla questa spero non sia la stessa però è bella posso costruire delle case sugli alberi qua vediamo adesso dove torniamo sperando di tornare nooo sei sotto? sotto beh meno 156 è dove l'abbiamo costruito però dovremmo essere sopra qua ah ma guarda guarda là si vede il mio perché tu forse non hai la shader e non lo vedi io vedo il mio serpentone siamo vicini a casa eccola là ma non la vedo ancora sono oddio sono caduto di sotto pensavo ci fosse la lava invece no meno male panico totale ok qua abbiamo i 26 pezzettini così ci possiamo fare anche un botto di torce allora vediamo un po' se tu vai a fare il portale qua ti ricollega il portale di casa dove? te lo fai qui attaccato se lo faccio qua in alto? sì ti rispondo a casa sei sicuro? 100 quasi va te lo do al 90% no anche il 95% dove lo faccio? magari un po' più spostato di qua per evitare che vada a interferire con quello che abbiamo fatto 125 blocchi e se lo spacco quello là in fondo? sì forse lo vado a spaccare io guarda no vado io vado io che ho il piccone di diamante anzi to tieni piccone di diamante vai pure grazie dimmi te quando l'hai rotto allora ci dobbiamo alzare minimo 30 blocchi perché dobbiamo far prendere ai pigmen danno da caduta ok quindi dato che sotto non so se ci vuoi fare magari un sistema di smistamento tutto altro consiglio abbondiamo saliamo tanto ok quanto? 45 blocchi ok io mi sono fermato qua perché ho finito le scale allora la prima cosa a fare il blocco centrale perché qui poi va andrà tolta la scala pioia dove? ci serve soltanto come questo è il nostro centro sì 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 ok diciamo questo è il nostro centro dal nostro centro ci dobbiamo staccare 21 blocchi ogni lato il centro è questo quello dove sono io questo è il centro esatto 2 3 4 ok intanto io vado di qua allora nei primi 21 blocchi non possono spawnare quindi noi andiamo ad escludere questa zona di spawn successivamente per altri saltando questo sono altri 15 blocchi in questa direzione andremo a fare tutto un anello intorno in cui li spawneranno tantissimi mob noi andremo a farli incazzare in qualche modo tirandogli una freccia tanto ai figli loro dovremo creare comunque delle zone predefinite per cui loro possano tranquillamente arrivare al centro che sarà un buco ora che succede loro tenteranno di raggiungere la zona più vicina a te sì cioè la zona la strada a fare la strada più breve per cui per arrivare a te in questo modo incontreranno purtroppo una botola per cui cadranno nel vuoto e moriranno malissimo ah molto bene questo è il diciamo l'idea di farm ok produce tanto produce tanto poi puoi upgradarla nel senso facendo più livelli sì esatto puoi fare più livelli possibili e te lo sconsiglio perché ti giuro ci vorrà una vita fa sta roba ok ci allarghiamo da questo blocco di 15 ok quindi faccio 5 di qua e 5 di là esatto 1 2 3 4 5 ok e fuori di 4 1 2 3 4 poi andiamo fuori abbassiamo di 1 e fuori di 3 ci abbassiamo di 1 e fuori di 2 poi scendiamo ancora e andiamo fuori di 1 sì tac dopo di che ci abbassiamo di nuovo sì e andiamo fuori di 2 1 2 perfetto ora ti consiglio di fare una cosa sì lasciare questi così e poi fare un altro diciamo un'altra linea ah ok quindi centralmente partendo da qua e di là questi andranno collegati in diagonale cioè quindi quella parte di anello là e quella che andremo a costruire qua vanno collegati diagonalmente con file da 1 cioè con blocchi da 1 ok perfetto ragazzi allora abbiamo costruito l'anello esterno nel frattempo se lo vedete rientrare nel server è perché ha dovuto uscire un attimo per prendere le misure dell'anello interno adesso andiamo a costruire l'anello interno in modo da collegare questi blocchi qua e rialzo di 1 tra di loro in modo da formare poi la piattaforma esterna sulla quale andranno a nascere i nostri pigman esatto quindi adesso costruiremo l'anello interno e ci ricolleghiamo appena abbiamo finito perfetto ok abbiamo fatto anche l'anellone centrale raga come potete vedere adesso tanto per dirvi stiamo registrando da 1 ora e 04 e non abbiamo fatto assolutamente nulla esatto è bellissimo ok adesso a questa altezza mettiamo i cobblestone wall esatto adesso c'è il piccolo problema che dobbiamo riempire tutta la parte questa qua ed è un grande problema perché io ho finito la cobblestone no io ne ho guarda shulker box piena bello ok raga abbiamo fatto metà metà ma siccome siamo delle persone indaffarate e dobbiamo andare abbiamo i nostri impegni inizieremo a fare lo smistamento pigman quello smistamento la raccolta pigman e poi l'altra metà la faremo magari o in in live o se no la costruirò io off camera puoi fare live la facciamo in live ti metti da sopra sfrecci da qua sopra un pigman ok loro si inizieranno ad arrabbiare con te ti vorranno uccidere e quindi la strada più più vicina a te è questa qua quindi ci sarà la calca di gente che fa questa cosa qua ok poi si fermeranno qui noi ci metteremo una botola qua in modo tale che loro leggano che è un blocco una sola e da lì loro ranno perché la leggono come blocco solido quindi ci camminano come se fosse tranquillo invece non è tranquillo perché c'è un buro e cadono di sotto e cadono di sotto prendono danno caduta e muoiono tu prendi l'oro la carne e ti fai anche la farma di smeraldi con i villager mamma mia perfetto ragazzi questo novantesimo episodio della serie principale di minecraft termina qua abbiamo iniziato a costruire la nuova farm d'oro visto che quella vecchia purtroppo era stata persa a causa del bug quella delle ceste che erano sparite e quindi avevo dovuto ricaricare il backup perdendo la farm d'oro in tanti mi avevate detto di prenderla anche con world edit da un vecchio salvataggio il problema è che il salvataggio non ce l'avevo quindi avrei dovuto ricostruirla tutta da zero quella con i mille portali e non ci avevo sbatti quindi ne ho approfittato ho sfruttato bellamente il nostro caro for gaming per iniziare a costruire questa la termineremo insieme magari con lui se avrà del tempo se no anche io da solo in live insieme a voi magari settimana prossima io ringrazio ancora free gaming per aver partecipato a questo video è stato un piacere grazie a te per avermi invitato al novantesimo episodio vi ricordo ragazzi che in descrizione troverete anche il link al canale di free gaming e probabilmente se l'ha già messo fuori il video che ho fatto insieme a lui sul suo canale perché anche io sono andato nella sua nuova stagione la settima stagione di minecraftita a dargli una mano ad abbellire un po' diciamo a dargli un'idea su come costruire casa e direi che sta venendo molto bene per adesso poi vediamo sarà nelle sue mani il termine delle costruzioni magari se le cose non vanno bene ti richiamo senza nessun problema sai che sono a disposizione raggiungiamo ragazzi quindi 4000 like per questo video se arrivolete free gaming un'altra volta nel nostro mondo a darci una mano a migliorarlo con queste farm gigantesche iscrivetevi che ne so che avete fatto noi ci vediamo domani con un nuovo video qui da Zanzo e free gaming è tutto un bel saluto e perla